La perdita dei capelli genera un fortissimo disagio, i capelli identificano le persone e noi come Tricostarche TS siamo presenti da 15 anni attraverso la tricologia solidare nel sostegno delle pazienti oncologiche, oncologiche e anche dermatologiche. Il 9 giugno ci sarà questo meraviglioso evento dedicato alla donazione dei capelli. Uno dei nostri cavalli di battaglia è quello della formazione in formazione. È importante essere accanto ai acconciatori così come a tutti coloro che i pazienti oncologici incontrano nel loro percorso di cura. È importante perché? Perché occorre dare quelle giuste informazioni ad esempio banalmente sul taglio dei capelli. Esiste la donazione dei capelli che è importantissima perché rende un prodotto inaccessibile come quella di una protesi di capelli veri, una parrucca di capelli veri, lo rende accessibile e più. Quindi il dono dei capelli si rende doveroso. Bisogna instaurare quello che è un dialogo con tutta la comunità, tutti i ragazzi, giovani, uomini, donne, perché donare è importante, fa bene a se stessi e fa bene agli altri. Ed è soprattutto importante anche affidarsi ai professionisti che devono saper tagliare i capelli in questi casi. Ci sono dei requisiti, non sono legati né al colore né al tipo di capelli ma sono legati ai centimetri di capelli perché per realizzare una protesi minimo, di una lunghezza media, un taglio medio, minimo occorrono 40 centimetri. Quindi è bene anche dare questo tipo di informazioni.